Buongiorno 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 En 9 Vaya En 9 Vaya En 10 En 10 En 10 En 14 En 15 En 127 Europas En 37 Il 1 Il 4 Il 5 Il 5 Il 5 Il 6 Il 7 Il 6 Il 6 Io non lo vedo eh! Il 11! Il 12! Il 12! Il 12! Venga jumping jack! Il 13! Il 12! Aghà! Venga! Venga! Capo! Capo! Venga! 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 Venga, di un numero, vamo! Siete! e l'unno Grazie.